Ciao a tutti, stamattina ho voglia di pescare e sono venuto qui a Praia Blanca mi sono alzato presto e ho iniziato a pescare con il pan, guardate qua che belli salti ragazzi ma voglio essere sincero, alcuni mi hanno tagliato il filo, ho il filo del 25 quindi è tutto dire ragazzi però ne ho perse tante ma ne ho portate anche tante su questo volino mi sono divertito, quindi ragazzi il pane è una bella esca ed è molto divertente guardate qua, poi il fatto di alzarsi un po' presto la mattina, respirare in aria buona non è soltanto prendere il pesce ma è tutto lo spettacolo, l'area del mare ragazzi bene ragazzi vi saluto, pescate sempre anche voi, l'importante è sempre divertirsi vai, yahoo!